Quello di Saione sarà l'albero di Natale dello sport aretino, questa la precisazione del comune di Arezzo in merito al nostro servizio sulla bete e comparso poche ore fa, di fronte alla chiesa del quartiere di Saione e criticato per la sua estetica da residenti e commercianti. L'albero sarà addobbato il 10 dicembre, precisa l'assessore allo sport Federico Scapecchi. Il quartiere scelto non è casuale, è stato coinvolto anche il Panatron Club di Arezzo e aderisce anche il CONI. Il comune si occupa della fornitura, dell'illuminazione e della messa in sicurezza della bete. Le società sportive invece forneranno i loro gadget, ma anche i singoli cittadini potranno contribuire all'allestimento. Il materiale potrà essere consegnato alla portineria del palazzo comunale fino al giorno precedente, previsto per l'accensione il 10 dicembre. Commercianti e residenti dunque, se vorranno, potranno contribuire all'allestimento, ma il grido di allarme che arriva dalle periferie di Arezzo non può certo essere relegato ad una pur simpatica polemica sull'albero di Natale. Da via Vittorio Veneto, alla parte bassa di Corso Italia, a piazza Sant'Agostino, riceviamo segnalazioni continue di sporcizia lungo le strade, mancata manutenzione e soprattutto scarsa attenzione da parte dell'amministrazione comunale. Non saranno alcune decorazioni di Natale, di questo ne siamo certi a risolvere il problema.